All'Ocri si parla di massoneria. In una realtà dove forse c'è bisogno di una istituzione muratoria nel momento in cui si cerca sempre di inserire in qualsiasi contesto in senso negativo la massoneria. La Chiesa da una parte, in alcuni aspetti della società civile dall'altra, senza conoscere effettivamente quali sono i fitoni esoterici. Come Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d'Italia sicuramente avete anche avvertito il bisogno e le necessità di aprire al mondo civile. Io credo che la massoneria debba avere un rapporto continuo con le persone, il cittadino, perché è inserita nell'ambito della società civile. Nei secoli ha aiutato la società civile ad emergere, ad emergere con la democrazia, con la libertà. Dopo un periodo che c'è stato, dopo la famosa P2, nel quale è stata una campagna molto negativa nei confronti della massoneria, la massoneria, meglio dire, i vertici della massoneria hanno fatto, a mio modesto giudizio, un piccolo errore. Si sono chiusi in se stessi. Poi in quel momento dovevano spiegare cosa è la massoneria, la nostra funzione, il nostro apporto e la nostra volontà di essere dei cittadini rispettosi della legge e soprattutto costruttivi per quanto riguarda la costruzione, perdonatevi il besticcio di parole, ma la costruzione della società civile. La nostra obbedienza, io personalmente, sono un pochino il precursore di questa novità, cioè di cominciare a parlare. Già il Grand Oriente d'Italia aveva parlato ed altre obbedienze regolari, e qui dico regolari perché non basta andare da un notaio, comprarsi dei grembiuli ed essere massoni, ma ci sono delle regole ben precise, internazionali, che proprio anche stasera cercheremo di spiegare. Questo è fondamentale perché se noi riuscissimo a comunicare la differenza tra regolarità e improvvisazione, sicuramente molti pregiudizi cadrebbero. La nostra volontà di venire qui a Logri, proprio in un momento così difficile, ma in una terra così splendida e bella come la Calabria, è di dare l'apporto, una forza ancora di più affinché ci sia una netta separazione tra quelle che sono pseudo-massonerie e che possono essere legate a situazioni malavitose, perché un po' il segreto, un po', come dire, questa aurea di immagine distorta, può favorire certe cose. Noi siamo proprio qui per dire che il segreto non esiste, esiste il secretum, cioè l'istillato di sapere che si fa con il lavoro nelle logge, quindi un lavoro iniziatico. Questo ci serve perché noi dobbiamo essere dentro la società per aiutare la società, aiutando noi stessi. Proprio il fatto di ribadire la regolarità, e l'abbiamo constatato in tutte le parti del mondo quando andiamo, noi facciamo parte del board mondiale della manzoneria e vediamo che lì stiamo, come dire, rispettati al massimo perché capiscono qual è la nostra missione. Evidentemente non siamo stati fino adesso in grado di poterla esplicare con correttezza. Abbiamo iniziato già con alcune conferenze anche nei Rotari, abbiamo detto andiamo nella Logride, chiediamo al sindaco di darci lo spazio e la visibilità e abbiamo trovato una persona veramente eccellente che ci ha detto questa è la casa del popolo, la casa della democrazia, anche voi avete diritto di parola. E quindi noi siamo molto onorati di stare qua dentro e cercheremo di dare il nostro apporto per chiarire, togliere un pochino di quella nebbia che c'è in questo settore. Siamo, dicevamo, nella Logride, però da parte di alcune realtà che sono retrograde o diciamo in alcune visioni di periferia, un clero, molte volte non accorto e poco assorto, pone molte volte l'attenzione come se fosse la massoneria e il diavolo nero. Anche di più, anche di più. Cosa dire? Beh, intanto io riporto una frase di Pike in metà del 1700 che dice un massone non può essere uno stupito ateo e quindi già è un primo passo avanti. Secondo, noi siamo credenti, crediamo in un solo Dio, come crediamo, poi lasciamo la libertà dei fratelli di credere nel loro Dio, seguire la loro religione perché la massoneria non è religione, non si occupa di religione ma si occupa soltanto dell'uomo. Quindi, da di noi ci sono coloro che professano il cristianesimo, chi il cattolicesimo, chi l'ebraismo, chi l'islamismo, ma sono tutti fratelli credenti e quindi come tale a volte ci danno degli atei o degli eretici. Ci fu una scomunica nell'Ottocento perché... La scomunica credo che ce ne siano tante, 12-13. 12-13 perché quando il risorgimento, proprio sospinto dalla massoneria, fece cadere il potere temporale, quello fu un momento nel quale la Chiesa si difese. Ci sono altre motivazioni, che qui sarebbe troppo lungo, che noi non contestiamo assolutamente perché io per primo sono credente e per primo rispetto, ma a volte le parole vanno, come dire, usate nella maniera giusta. Io quando parlo di religione mi sento emozionato perché parlo di un livello molto superiore a quella che è la condizione di massone. Il massone si occupa dell'uomo, nell'ambito della natura. Poi ognuno di noi ha la propria fede, ma la deve avere perché noi chiamiamo grande architetto quell'entità superiore che accomuna tutti i fratelli che sono nel sorco della credenza di un Dio unico. E che cosa tende a dire agli cittadini della Locke, a quelli che ci ascoltano? E quelli che pensano che sia la riservatezza, che sia invece un qualcosa che si vigge e si vive nell'oscurità per uscire, per trovare la luce, la luce della parola. È una domanda molto difficile da rispondere, ma credo sia molto semplice dire, è compito nostro far comprendere a tutti i cittadini della Locke e in generale ai cittadini del mondo che la nostra riservatezza non è segretezza, la nostra riservatezza è rispetto degli altri. rispetto del fratello. Ormai si va su internet e si legge tutti i rituali di qualunque genere, a volte distorti, a volte si vedono. Noi chiediamo sempre di avere la massima onestà intellettuale. Quando si parla di massoneria c'è a volte dei pregiudizi e questo ci dispiace. Noi cercheremo di togliere questi pregiudizi togliendo quella negativa riservatezza mantenendo la nostra riservatezza.